benvenuti in questa guida top 7 stendini elettrici di consiglio pro tra questi sette abbiamo individuato il migliore il consigliato quello con il migliore rapporto qualità prezzo oltre che 5 valide alternative ma partiamo subito al settimo posto troviamo concise home l'asciugatrice rotonda elettrica portatile adatta per aiutarti a asciugare e disinfette i vestiti e tutti i tessuti in tempo umido freddo vediamo la nostra valutazione un'eccezionale qualità generale ottima offerta online con ottime caratteristiche in definitiva è davvero buono il rapporto qualità prezzo il nostro punteggio generale è di 76 punti trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione sesta posizione al sesto posto troviamo ambu l'asciugatrice 2300 w eolica ad alta potenza all'elevata potenza di 2300 w può asciugare rapidamente i vestiti risparmiando tempo e garantendo un bus ecco cosa pensiamo una soddisfacente qualità generale nell'offerta assegniamo 5 stelle con caratteristiche al top gamma 3 stelle per il rapporto qualità prezzo il nostro punteggio generale è di 76 punti trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione quinta posizione al quinto posto inseriamo in nova goods stand di biancheria in alluminio e abs design compatto e pieghevole facile da montare e riporre potenza 300 w basso consumo vediamo la nostra valutazione nella qualità generale assegniamo 5 stelle imbattibile l'offerta a prezzo scontato un'estrema quantità di funzioni complessivamente un ottimo rapporto qualità prezzo il nostro punteggio generale è di 81 punti trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione quarta posizione al quarto posto non poteva mancare new tech asciugatrice asciugatrice in ceramica ptc per ventilazione realizzato in materiale ceramico ptc per un riscaldamento rapido efficiente e risparmio vediamo il nostro parere qualità generale davvero eccezionale uno sconto davvero importante con caratteristiche al top gamma nel complesso un buon rapporto qualità prezzo il nostro punteggio generale è di 87 punti trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione terza posizione nel nostro podio inseriamo bhk ai lunga i stand di biancheria con l'arrivo dell'inverno lavare e soprattutto asciugare la propria biancheria sempre un problema ma finalmente con il nuovo stand di biancheria vediamo la nostra opinione una discreta qualità generale nell'offerta assegniamo 5 stelle con una soddisfacente funzionalità sommariamente discreto il rapporto qualità prezzo il nostro punteggio generale è di 89 punti trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione seconda posizione al secondo posto consigliamo foxy dryer stand di biancheria a parete telecomandato foxy dryer scende fino a 1,80 metri dal soffitto e si può fermare a qualsiasi altezza intermedia sostiene ecco la nostra valutazione 5 stelle nella qualità generale interessante l'offerta 5 stelle per le caratteristiche assegniamo 5 stelle per il rapporto qualità prezzo il nostro punteggio generale è di 88 punti trovi informazioni nel link in descrizione prima posizione vince la classifica stand di biancheria richiudibile iside di wintem l'innovativo asciugabiancheria elettrico a torre grande superficie di asciugatura facilmente richiudibile per occupare ecco il nostro parere un eccezionale qualità generale 4 stelle per l'offerta del momento 5 stelle per le caratteristiche complessivamente un ottimo rapporto qualità prezzo il punteggio è di 96 punti info in descrizione non dimenticare di mettere mi piace iscriverti al canale